Ciao, quella che state per vedere è una bellissima chiacchierata con Tommaso Guerra, CEO e founder di Golè. Golè è una start-up italiana che sta lavorando per raccogliere il proprio Sire 6, imparerete molto di più su di loro durante questa intervista. Quello che posso anticiparvi è che quello che stanno facendo nel mondo delle associazioni sportive è veramente super interessante, stanno conquistando il mercato con una velocità incredibile, quindi faccio tantissimo il supporto per loro. Vale qui lo stesso discorso che ho fatto nell'episodio precedente di questa serie, se non l'avete ancora visto andatela a vedere, cioè che questo è stato un episodio un po' sperimentale in cui sto ancora cercando di capire bene come muovermi con queste interviste, quindi il vostro feedback qui sotto è super apprezzato. Un'idea che è venuta in mente poi parlando anche con Tommaso è quella di chiedere ai founder per esempio di avere già delle domande pronte da affrontare perché soprattutto nel caso di un'azienda come Golè che è un po' più strutturata, va verso il Sire 6, i temi che puoi andare a affrontare in maniera generica sono già stati toccati da qualcuno internamente in azienda, quindi si tratta più o di dibattere opinioni, magari aiutare il founder in un processo decisionale complesso, però offrendo principalmente il tuo punto di vista, facendo le domande giuste, oppure si va a finire in temi in cui per raggiungere valore bisogna necessariamente andare molto nel dettaglio, quindi non si può continuare a cercare punti dove scavare per entrare nel dettaglio in un'intervista che poi viene pubblicata su YouTube e che deve rispettare i dettami dell'algoritmo, serve avere già delle indicazioni precise sulla mappa, sapere dove andare a scavare. Quindi questa introduzione è solamente per dirvi che fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa vorreste vedere di più di questo format. Per ringraziare nuovamente Tommaso per la sua disponibilità, prendete i popcorn, io vi lascio alla chiacchierata con Tommaso Guerra di Golè. Ciao a tutti, oggi sono contentissimo di essere qui con Tommaso Guerra di Golè, Golè è la pronuncia corretta, adesso l'ho indovinata. Golè è un gestionale per associazioni sportive, possiamo definirlo così, credo, è una piattaforma che si è presentata al Twitch Tank, ha vinto un episodio del Twitch Tank, quindi sono contento di portarla anche qui, capire un po' di più del suo business e vedere se c'è qualcosa, insomma qualche idea che può nascere da questa discussione. Quindi Tommaso, intanto grazie mille per essere qui, insomma facci sapere un po' chi sei e cosa fate con Golè. Benissimo, grazie a te per l'invito. E sì, Golè è il, noi lo chiamiamo il partner digitale delle società sportive, perché è vero che fungiamo da gestionale, nel senso che voi dovete immaginarvi in una società sportiva, no? Dove, di qualsiasi sport tra l'altro, noi collaboriamo con oltre 90 sport diversi, che evidentemente se cerchi di nominarli tutti 90 fai anche fatica, no? Sì, infatti, neanche mi verrebbero in mente 90 sport diversi. Esatto. E tu ti immaginare appunto, solitamente c'è lo staff dirigenziale che è composto da uno o due segretari che si occupano di tutto, della società sportiva, dall'archivio dei dati degli atleti, al monitoraggio della scadenza della visita medica, devono incassare i pagamenti, devono creare i documenti, c'è tutta quella mole di lavoro lì, no? Fino al monitoraggio sportivo, per cui c'è l'allenatore che tramite le applicazioni riesce a coordinare gli allenamenti, le partite, i tornei, le gare, tutto quello, insomma, di cui c'è i trasporti, le convocazioni e così via. Poi c'è tutto l'aspetto social della società sportiva, per cui c'è la possibilità di creare un sito web, di gestire i propri canali, di vendere il merchandise. Quindi, gestionale per noi è una parola che evidentemente è molto diretta, lo fa capire, però è solamente una piccola parte, no? Di quello che facciamo. Certo. Quando parliamo di partner, poi siamo anche consapevoli che le esigenze di una società sportiva non sono rivolte solamente alla digitalizzazione dei processi. È un mondo che ovviamente ne ha necessità e che finalmente si sta aprendo. Infatti negli ultimi tempi abbiamo visto proprio un cambio di trend enorme. Però magari hanno bisogno anche del commercialista, hanno bisogno del fornitore di materiale tecnico, hanno bisogno della compagnia assicuratrice. E noi facciamo in modo di raccogliere le loro esigenze, interfacciarci con i migliori professionisti sul mercato e stringere poi una collaborazione con loro, no? Certo. Come un consorzio, dai. Nel senso... Cercare di mettere tutto insieme. Quindi, diciamo, valori aggiunti fondamentalmente lato CRM è che siete un gestionale specifico per queste aziende e quindi riuscite ad aggiungere anche servizi extra che portano altro valore al di là del semplice gestionale, che poi semplice non è. E poi immagino, diciamo, da un punto di vista di competizione verticale sulle associazioni sportive, non ci sia molto in Italia, no? Quindi siete forse tra i primi, se non i primi. Sì, è vero, noi siamo partiti anni fa. Anni fa vuol dire pre-Covid, d'accordo? Che ormai sono più di quattro anni. Esatto. Ma se mi immagino com'era il mondo del sportivo in quel tempo lì e poi post-Covid è cambiato totalmente, no? Tu fai conto che noi andavamo proprio in giro con i nostri agenti door to door. Ci presentavamo in sede dalla società sportiva, no? E dicevamo, guarda che noi abbiamo un gestionale, glielo facevamo vedere, gli facciavamo vedere. Meglio, vecchia scuola. Eh sì, esatto, perché era proprio utopia poter pensare di fissare delle video call con le società sportive. Poi il Covid, da una parte ovviamente, è stato un disastro per il mondo sportivo perché ha completamente interrotto qualsiasi tipo di attività per più di un anno. Però dall'altra parte ha sensibilizzato tantissimo, no? Il mondo intero. Però anche il mondo sportivo sull'importanza degli strumenti digitali. E quindi è la riappertura, abbiamo avuto la fortuna di essere sopravvissuti anche noi. Ed effettivamente sì, c'era pochissimo sul mercato. E noi invece avevamo già un'impostazione con un team dedicato, il prodotto lo sviluppavamo noi, avevamo già degli investitori che credevano sul progetto. E quindi abbiamo avuto avanti a noi territorio libero, no? Sì, sì, sì. Un oceano blu, come direbbe qualcuno. Quindi, diciamo, una delle statistiche più interessanti che hai condiviso durante il TENC era che avete più o meno il 10% delle associazioni sportive in Italia. Giusto? Ricordo bene. Hai parlato di door-to-door, ma quali sono i metodi di acquisizione principali che avete al momento? Qual è lo split più o meno tra sales, organico, paid marketing? Ok, ovviamente oggi il door-to-door non lo facciamo più. e i canali di acquisizione principali sono l'online. Poi l'online si divide in due, tra le campagne a pagamento e invece l'organico. Mese su mese, il 30-35% è la campagna a pagamento, tutto il resto, fortunatamente, provengono da canali organici. Quali sono questi canali organici? Noi abbiamo fatto un investimento forte nel lato brand, chiamiamolo così, dove abbiamo voluto perconoscere Golè appunto non come semplice gestionale, ma come partner della società sportiva. Inoltre gli abbiamo abbinato tutta una serie di risorse che sono articoli sul blog o webinar e tutorial, ebook, tutto del materiale che potesse essere veramente utile per le società sportive. uno dei punti più importanti è stato anche per la riforma dello sport, no? Non so se si sa, ma a luglio del 2023 è entrata in vigore la nuova riforma dello sport ed effettivamente sono cambiate una serie di attività per le società sportive. Qualche esempio, molto banale, è stata proprio ideata la figura del lavoratore sportivo, che prima invece non esisteva, e quindi tutti i contratti co-cooperi lavoratori sportivi, bisognava cambiare lo statuto, bisogna tenere monitorato le entrate primarie da quelle secondarie, insomma, tutta una serie di dinamiche che prima non c'erano. Noi ci siamo attrezzati sia con le funzionalità, sia a livello proprio di risorse gratuite per i nostri clienti, in modo tale che loro si potessero appunto informare e poi evidentemente poter adempiere a tutte le cose della riforma e questo ci ha aiutato ovviamente nel passaparola, nell'indicizzare il nostro sito e così via. Quindi di questo 65% organico la maggior parte è o referral non ufficiale, cioè passaparola, o content marketing, diciamo così, e SEO è tipo un terzo posto, più o meno? Sì, anche sul SEO, cioè noi comunque puntiamo a essere indicizzati sempre numero uno, massimo numero due su tutte le keyword principali dei nostri, è una cosa che aggiorniamo molto di frequente, abbiamo creato anche proprio il nostro sito web o le nostre risorse lo facciamo sempre comunque in ottica SEO. Ok, chiaro. Però lato SEO quindi lavorate principalmente o solamente sulla parte di blog contenutistico o avete fatto anche altro? Non ho fatto un check, avrei dovuto farlo prima della chiamata perché sono curioso. Sì, principalmente quello, cioè qualsiasi contenuto noi facciamo, che sia un articolo di blog, un video, un webinar, un ebook, qualsiasi cosa noi facciamo in modo di attaccare le keywords principali del momento. È un mondo che ovviamente un po' come tutti, dai, ci sono dei momenti in cui è in trend più una keyword rispetto a un'altra tipo riforma dello sport o fatturazione elettronica per SD e quant'altro. Quindi cerchiamo di spingere in quella direzione e mentre ci sono altri contenuti che vanno sempre bene. Certo. voi diciamo la parte di referral come l'avete strutturata? Succede in maniera organica? Avete trovato degli incentivi? È un referral solo B2B o avete trovato anche utenti finali che vi hanno fatto referral di associazioni sportive? Allora, sul piano di incentivi ogni tanto facciamo qualche promozione nel senso portaci un'altra società sportiva che avrai uno sconto di. Non ci piace troppo questa maniera di fare quello su cui lo stiamo basando è proprio l'essere chiamiamolo orgogliosi di entrare a far parte di Golè e quindi qui mi ricollego al concetto del nostro posizionamento quindi noi non vogliamo essere un fornitore di servizi per la società sportiva ma vogliamo essere il partner. Una società sportiva che utilizza Golè significa che è una società sportiva che è attenta all'innovazione aperta al continuo migliorarsi ed è una cosa che deve far sapere alcune società sportive si sono proprio comprate la nostra targhetta che sai che quando entri dentro una società sportiva non fatti calcio per esempio c'è scritto siamo una società elite siamo affiliati a una società sportiva professionistica e siamo powered by Golè e questo fa in modo di dai non vi piace ok al di là del vi piace non vi piace ma ha funzionato o non ha funzionato incentivare i referral no 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 sicuramente sicuramente funziona non funziona se è sempre cioè se è una costante ma se fai delle attività su un periodo specifico per esempio un periodo molto importante per noi è il periodo estivo e magari lì incentiviamo il referral però sono azioni a spot che avvengono due o tre volte durante l'anno ok perché quello che mi viene in mente io cerco di non fare mai riferimento al mio datore di lavoro però in questo caso è l'esempio più calzante che mi viene in mente no cioè Revolut è diventato famoso tra virgolette anche per un referral se vogliamo aggressivo non menzionerò cose che ho imparato mentre sono lì solo cose che si vedono da fuori e anche quello è un prodotto che comunque è amato dalle persone però si è visto che se incentivavi il referral le persone lo fanno di più completamente allineato con quello che dicevi cioè se lo lasci sempre lì non è abbastanza non è abbastanza forte però ecco nel caso di Revolut chiunque ce la sa che più o meno una volta al mese arriva arriva il nuovo ciclo di referral che puoi utilizzare per invitare persone quindi io direi che quello potrebbe essere un growth loop interessante per voi se se riuscite a trovare gli incentivi giusti magari l'incentivo non è monetario cioè questa è una cosa che ho visto anche molto in altre in altre aziende SaaS che sono che hanno una componente di product lead growth l'incentivo monetario molto spesso specie B2B è un po' una leva suboptimale cioè molto spesso c'è una una leva che puoi tirare all'interno del prodotto che funziona meglio quindi l'esempio più banale potrebbe essere ci ci fai entrare un'azienda in suggerisci un'azienda che inizia a usare colè ti diamo tre mesi di premium gratis e quello funziona su un doppio livello da una parte incentivi l'invito dall'altra la società sportiva che magari non ha ancora fatto l'upgrade ha un motivo in più per provare il premium per un periodo più lungo di tempo e poi magari continua a rinnovare avete provato anche questo o hai detto bene ogni tanto è magari un incentivo monetario che vuol dire uno sconto rispetto a quello che che già pagano e altre volte invece è la riattivazione magari della trial che invece che durare due settimane può durare un mese un mese e mezzo no ok ah quindi non avete mai fatto diciamo cash incentive e basta no ok magari si può fare il contrario e provare quello poi non si sa ogni business ha degli incentivi diversi un'altra maniera in cui stiamo cercando di diciamo promuovere il passaparola è attraverso delle azioni che hai bisogno che anche le altre società sportive utilizzino il nostro software certo per esempio la programmazione di tornei o di amichevoli d'accordo un conto è farlo attraverso email un altro conto invece è se attraverso il gestionale mandi una richiesta o pubblichi la richiesta di poter fare un amichevole o una richiesta che ti serve un playmaker o ti serve un attaccante dipendendo dallo sport e vedere se qualcuno ti risponde se è all'interno del nostro diciamo ecosistema ovviamente hai bisogno che anche altre società sportive velo utilizzino sì quello è un game changer passare da single player a multiplayer può moltiplicare l'adoption avete avuto qualche riscontro in merito o è una cosa che ancora è in abbiamo fatto dei test abbiamo fatto dei test ad oggi non è entrato ancora nelle nostre diciamo priorità di di perché ovviamente quando fai un test e lo fai solamente su una cerchia ristretta di clienti vedi che tipo di risultati puoi ottenere se quello stesso test poi lo potenzi con comunicazioni newsletter comunicazioni marketing incentivi tra l'altro degli sconti e quant'altro vedrai che funziona molto meglio un'azione spinta su questo punto di vista ancora non l'abbiamo fatta ok una una versione non so se anche voi magari ci avete già pensato una versione light di questo sono i famosi loop di hotmail o calendly non so se può essere contestualizzabile però quando tu condividi il link calendly per prenotare l'appuntamento c'è power by calendly usalo anche tu oppure hotmail che ti diceva questa email è stata inviata da hotmail ci sono situazioni simili in cui magari l'associazione sportiva dice fammi condividere questo questa partita con l'altra associazione oppure anche con i miei giocatori così che hanno sul calendario l'evento a che ora e dice power by golet sì sì ogni tanto c'è per esempio quando noi abbiamo diverse licenze se la se tu utilizzi la licenza base quando crei dei documenti o mandi delle notifiche o delle comunicazioni e quant'altro è sempre sponsorizzato con il nostro logo ok e quanto quanto vi porta non tantissimo immagino però sì hai ragione innanzitutto facciamo anche un po' fatica a tracciarlo precisamente quanti di questi provengono da da queste azioni ovviamente se è una cosa che vuoi monitorare vedi proprio il cambio mese su mese no? se c'è e però non sono in grado di dirtelo a livello generale per monitorare queste cose avevo fatto un piccolo un hack semplice a parte usare una landing page diversa che immagino ci abbiate pensato però l'altra cosa si possono usare anche dei parametri all'interno dello url con quelli col punto di domanda per esempio varie aziende usano punto di domanda made with che di solito quando ci sono siti che vengono pubblicati online e quello su google analytics è abbastanza facile da tracciare riesce a vedere più o meno le conversioni che arrivano e la puoi mettere anche come landing page iniziale così che riesce a vedere un po' un po' il percorso no no è interessante però sì difficilmente è un game changer quel tipo di aggiunta lì quello sì no no sicuro quello che succede spesso è che anche per esempio noi in campagne diverse abbiamo facciamo abitest comunque abbiamo landing page diverse e quant'altro poi cosa succede che succede che magari uno non si registra subito no ma ha bisogno di due o tre input quindi la prima volta ci va poi lo ritargetizziamo e lo vedo da un'altra parte e poi finalmente fa la registrazione e a quel punto diventa un pelo più complicato appunto riuscire a capire il vero canale sì l'attribution diciamo è never ending never ending story del marketing però è più o meno è sempre di continuare evoluzione tra l'altro adesso anche con google che ha rilasciato la nuova piattaforma sì ah sì quello è stato divertente quando c'è stato lo switch a analytics 4 ho visto il panico negli occhi di tutti quanti voi cosa usate per tracciare dentro il prodotto mix panel amplitude cosa mix panel ok ne abbiamo provati diversi e poi tra l'altro anche per esigenze diverse però abbiamo buttato via tutto praticamente e utilizziamo solo mix panel mix panel secondo me è proprio una bomba sì sì sono da credito poi tra l'altro avendo i programmatori nostri interni loro o qualsiasi cosa gli chiedi te la riescono a fare per cui riusciamo a fare una miriade di grafici e di studi sul comportamento degli utenti su vedere quanta roba usano se entrano ho accennato la volta scorsa che abbiamo un parametro che si chiama scoring no praticamente che cos'è questo scoring è la sintesi di tantissime metriche in un singolo parametro quindi è come dire quanto vali tu valgo come se fosse un giocatore no sei forse attaccante sei forte di testa sei bravo di sinistra ok quanto vali valgo 50 milioni lo scoring è più o meno lo stesso concetto quindi avete identificato un po' il vostro aha moment cioè qual è il momento in cui l'utente dice cavolo ho bisogno di questo prodotto mi svolta la vita allora è abbastanza è un tema che abbiamo affrontato da sempre d'accordo perché non c'è mai un fine ovviamente più funzionalità e più cose inseriamo all'interno del gestionale all'interno della piattaforma e più aha moment ci possono essere dipendendo da con chi ci interfacciamo perché non esiste un referente unico per noi magari è il secretario magari è il presidente magari è l'allenatore c'è il presidente che è più attento a poter avere un'arma in più per poter diciamo convincere gli sponsor a dargli soldi quindi il suo aha moment è la nostra maniera di poter mettere più in risalto il loro sponsor attraverso canali digitali quello del segretario invece per esempio una cosa molto forte che abbiamo utilizzato la stagione scorsa è stato su lo start up della stagione entrando nel concreto un segretario in questa stagione deve prendere tutti i link di iscrizione quindi tutti i tesseramenti deve dare le coordinate bancarie per fare il pagamento deve mettere le fatture le ricevute e gli cuba per esempio il primo mese mese e mezzo di attività e lo fa in maniera molto manuale noi gli abbiamo fatto capire che attraverso il nostro gestionale tutto questo flusso quindi non la funzionalità specifica non la fatturazione o l'iscrizione ma proprio il flusso di start up della stagione è semplificato e per lui è stato ah ok 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 ma quindi effettivamente questo è un punto anche importante chi sono le vostre persone principali cioè quelle due tre che vi portano la maggior parte del business poi presidenti e segretari segretari allenatori ok a livello di questi termini sono tutti in inglese quindi time to value più o meno quanto l'avete stimato per queste diverse persone quindi dal momento in cui si registrano a quando trovano il momento di stupore quanto quanto passa la verità è che deve passare pochissimo cioè deve passare cioè nello stesso momento in cui fai l'onboarding ti registri entri sul gestionale devi trovare un qualcosa che faccia faccia per te noi appena atterri sul gestionale abbiamo il tutorial interattivo che si apre subito per cui ti faccio capire immediatamente le due tre cose che riesci a fare è personalizzato per tipo di utente esatto abbiamo lui nella fase di registrazione ci dà qualche dato tipo che figura è sei presidente segretario allenatore quanti tesserati ha all'interno della società sportiva principalmente questi due e noi ovviamente in base e lo sport quindi in base allo sport in base al numero di tesserati in base alla figura che è gli proponiamo inizialmente delle funzionalità diverse se sei un segretario del mondo del calcio che ha 200 atleti gli facciamo capire subito la parte di archiviazione degli atleti se sei un allenatore di una squadra di danza con dieci invece dieci danzatrici allora gli facciamo vedere tutta la parte di comunicazione no? perché per lui diventa un po' più semplice quella parte là dipende sì l'abbiamo personalizzato anche sotto questo punto di vista è in continua evoluzione comunque cioè anche qui uno pensa ok lo faccio e poi me lo dimentico perché è fatto sono arrivato è clamoroso come cambi veramente ogni due mesi sì no questa è l'iterazione continua ma lo stesso a moment molto o activation moment molto spesso c'è questa idea del lo devo trovare però in realtà moving target cambia cambia spesso anzi va cambiato va aggiustato in base anche al tipo di di business che volete attrarre in base a come cambiano gli obiettivi dell'azienda quindi quello sì sì è normale giusto un altro esempio è sulla digitalizzazione dei pagamenti no? cioè quando noi abbiamo lanciato il nostro Golepay che è appunto la possibilità di riscuotere i pagamenti attraverso le applicazioni e quindi non più bonifici e quant'altro MVP va bene l'abbiamo l'abbiamo nominato nessuno poi cioè nessuno in pochi avevano iniziato veramente ad adottarlo abbiamo visto che invece a ottobre novembre del 2023 tutti quanti chiedevano Golepay e quindi cosa devi fare? devi andare anche a modificare tutta la parte di onboarding perché significa che tira di più quel tema qual è l'activation rate di chi si iscrive? quindi diciamo da sign up a effettivamente ok ha cominciato a usare il prodotto noi abbiamo quindi ripropongo lo scoring d'accordo? perché per me è proprio questo quando uno si registra quando uno va in scoring e quando uno si converte sono rari i casi che uno si converta prima di essere entrato in scoring ed è per quello che per entrare in scoring cosa devi fare? per entrare in scoring ci sono 100 metriche più o meno che noi teniamo in considerazione però che possono essere raggruppate in due gruppi principali il primo è quante funzionalità hai provato e il secondo è quanto attivo sei nel gestionale e poi ci sono tutti i vari incroci però questi due gruppi se riesci ad avere un minimo di score in questi due gruppi entri in scoring e poi lì c'è anche un punteggio di scoring non è scoring sì o no è quanto sei in scoring d'accordo? bene sui nuovi sui nuovi registrati sui nuovi lead circa il 30% riusciamo a farle entrare in scoring nei primi 5 giorni d'accordo? dopo i primi 5 giorni noi invece li trattiamo con un altro flusso che è il flusso dei risvegli è un gergo tecnico nostro sì sì zombie campaign esatto dei risvegli che a quel punto partono tutta un'altra serie di automazioni quindi sono newsletter sono messaggi sono retargeting prima no? prima nei 5 giorni? sì parto un altro flusso il flusso di onboarding di onboarding flow però sappiamo che noi dobbiamo riuscire a incastrarli nei primi 5 giorni se riusciamo a incastrarli nei primi 5 giorni quindi che sono questo 30-32% che entrano in scoring nei primi 5 giorni poi circa il 70% diventa un cliente pagante perché quella è una figata sui restanti sui restanti 70% parte un nuovo flusso che riusciamo a rifarli entrare in scoring una volta che si risvegliano mediamente uguale circa il 30-27-28% mi pare sia attualmente e il tasso di conversione pure è molto simile non è più il 70% ma è comunque superiore al 50% e noi quando andiamo a lavorare su cose specifiche lavoriamo proprio su questi tassi qua cioè diciamo perfetto dobbiamo aumentare lo scoring per le nuove registrate questo è l'obiettivo dei nostri OKR del trimestre cosa possiamo fare? a quel punto ci sono tutti i vari reparti sales, marketing e tecnico che identificano delle possibili azioni da fare per aumentare lo scoring in fase di registrazione e poi passi a quello benissimo devi aumentare l'unica cosa che mi viene cioè a parte è tutto sensato è tutto studiato bene da questo punto di vista e comunque mi sembra di capire quindi avete un 20% di sign up to paid fondamentalmente almeno nel flusso principale quindi 130 20 che più o meno mi sembra sia insomma nella nella media a cui puoi aggiungere tutti quelli che invece entrano nel nel secondo flow e che e che fanno upgrade magari anche se nei primi 5 giorni non hanno fatto l'upgrade l'unica cosa che all'inizio mi ha fatto un po' sorcere il naso è dire che ci sono 100 metriche diverse quindi immagino abbiano un peso diverso in base alla rilevanza che hanno per likelihood of upgrade quindi come avete determinato questa questo peso all'interno della scala abbiamo visto tramite l'abbiamo fatto tramite mix panel cioè noi diciamo ci sono varie per esempio faccio un esempio pratico che è sulle funzionalità che utilizzano no? funzionalità che utilizzano tu puoi avere un punteggio da 0 a 50 d'accordo? e ora uno che utilizza il calendario o utilizza il le fatture ha un peso diverso di quello che utilizza invece la bacheca o quello che utilizza l'archivio degli atleti perché io so cioè noi sappiamo che alcuni dei nostri clienti usano GoLay per archiviare gli atleti d'accordo? perché per archivare i dati degli atleti perché è una cosa molto molto utile però non è non è una funzionalità che veramente ti fa capire quanto è importante il il gestionale invece chi utilizza il calendario o chi utilizza la parte finanziaria avrà un punteggio più alto perché qualche mese non tocco mixpanel non ricordo il nome della sezione però insomma non era insights comunque avete usato lo scoring dentro mixpanel per per attribuire un peso diverso ok diciamo che in realtà a livello di funnel siete proprio sul benchmark no? quindi 20 25% il vostro AR medio quant'è? il ticket medio per cliente pagante è di 400 euro abbiamo 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 le licenze che erano vanno da 300 euro all'anno fino a 650 sulla licenza inoltre abbiamo tutto il tema del cross selling che significa vendere il sito web è tutto in abbonamento comunque il sito web la parte di gestione della contabilità e del commercialista la parte della fatturazione elettronica cioè tutti questi sono degli elementi che vanno on top rispetto alla licenza quanto pesano sul totale questi servizi ancillari? in questo momento meno del 10% però è una cosa che abbiamo iniziato a focalizzarci da ottobre in avanti cioè noi prima il nostro business era stato semplicemente trovare il product market fit sulla licenza di base adesso noi siamo consapevoli che quello che diamo nella licenza di base è sicuramente ciò che le società sportive hanno bisogno indipendentemente dal tipo di sport e indipendentemente dal numero di tesserati che hai poi se hai tanti tesserati molto probabilmente passerai alla licenza superiore da 650 euro all'anno con più o meno le stesse funzionalità cambia poco l'una dall'altra inoltre adesso da quando abbiamo 10.000 clienti che come hai detto tu sono circa il 10% del mercato totale in Italia che sono circa 100.000 ovviamente crei valore anche per possibili partner e a quel punto riesci a valorizzare meglio il 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 fornitore di materiale tecnico che vuole farla partnership con noi in conto è quando avevamo 200 società sportive certo adesso finì 10.000 tu sei un canale di accesso diretto che altrimenti lui non potrebbe trovare lui insomma il fornitore non potrebbe trovare altri modi giusto per chiarire quindi per esempio i siti non siete voi a farli avete un fornitore terzo se prendete una commissione no il sito c'è a noi ok ok e vi conviene ah è tutto automatizzato cioè praticamente la società sportiva non ha neanche più bisogno di passare da noi inizialmente nella fase MVP dovevamo farlo noi adesso invece è proprio un prodotto del gestionale attiva il sito web si crea in maniera automatica e loro vedono che che dal tab del gestionale del sito fanno qualcosa e viene automaticamente aggiornato anche nel sito e quindi questo diciamo è un servizio che metti on top ai 650 euro al mese esatto prima era incluso i clienti che abbiamo avuto fino a ottobre ce l'avano incluso quindi avete una flat fee su qualsiasi piano avete mai pensato o provato a ragionare su altri tipi di di pricing e monetizzazione allora a noi piace l'abbonamento anche perché vediamo che è proprio semplice cioè anche tutte quelle una tantum fee le abbiamo tolte tutte deve essere deve essere un nostro vantaggio competitivo anche questo no? cioè non hai una tantum fee non è che per tipo fai il sito web paghi una volta 200 euro e poi paghi non so altri 200 euro l'anno paghi 200 euro l'anno o 200 o 300 dipende anche dal momento storico in cui lo compri però sì tutto quello che facciamo è rivolto alle società sportive e in abbonamento adesso noi dopo vari anni di test di mercato abbiamo identificato che le due licenze hanno un presso 400 euro e 650 euro che è un budget che tutte le società si possono permettere e poi tra l'altro è comunque un budget molto inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere considerando tutte le funzionalità che hanno e in più abbiamo altri prodotti per loro il mio dubbio era proprio lì però diciamo che il fatto che si parli di società sportive magari invalida tutto questo discorso però di solito un problema che si incontra spesso sul SaaS specialmente in questi stage è che non si riesce a estrarre abbastanza valore dal cliente finale e quindi è uno dei motivi per cui vari prodotti penso la maggior parte di tipo app spot per dire app spot in realtà loro hanno dei piani fissi però costano abbastanza adesso hanno aumentato parecchio i prezzi nel corso degli anni però tanti prodotti penso air table notion tutta questa nuova wave di plg ti fa pagare per numero d'utente per esempio loro hanno capito qual è l'hate value dell'aggiungere un utente hanno capito che la frizione che c'è nel pagare di più per raggiungere una persona comunque non è abbastanza forte dal fermarti e passando a questo modello di monetizzazione fanno molti più soldi perché uno magari in questo modo non vai a discriminare aziende piccole che non possono permettersi la fee più alta e vai a monetizzare molto di più da aziende grandi che potrebbero pagarti di più perché estraggono molto più valore quindi è qualcosa su cui rifletterei mi viene molto il dubbio che questa cosa non funzioni perché come dici tu magari loro non sono abituati a questo tipo di pricing e quindi magari rimangono straniti e non gli piace però dovesse funzionare qui vedo un potenziale problema risolto perché adesso non è un problema però comunque avete un target market abbastanza ridotto in Italia poi si parlerà dell'estero però è abbastanza ridotto e quindi far pagare al massimo 650 euro l'anno potrebbe diventare un problema poi eventualmente perché si parla di 650 anche se dovessi avere tutti quanti gli utenti paganti è sicuramente un ottimo business però magari non è non è venture scale poi avete anche altri modi per monetizzare quello sì però no hai ragione il concetto il concetto è che abbiamo dei competitor internazionali che fanno pagare per utente in generale comunque noi i 400 euro l'anno anche se percepita come una fee bassa nel nostro mercato siamo in realtà nel premium perché esistono quindi da 150 euro l'anno per dire però noi ovviamente c'è della qualità Excel è il vostro competitor in teoria no? sì 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 Excel o anche altri altri software magari non ad hoc del mondo sportivo però che possono essere utilizzati quindi noi abbiamo portato questa fee a essere mediamente alta per il nostro mercato comunque il concetto principale adesso è quello di penetrare velocemente il mercato che è un mercato fatto appunto dove il competitore è magari Excel no? quindi la priorità adesso è arrivare ad avere tanti clienti in modo tale che poi possiamo valorizzare i nostri clienti attraverso la community quindi noi a quel punto siamo il portavoce di 10.000 società sportive 20.000 società sportive che quando devono fare degli accordi con una società direttantistica di Bologna con 100 tesserati esatto quando deve interloquire con uno sponsor o con un commercialista in ambito sportivo o con non lo so ma mille robe per con le società professionistiche per fare le affiliazioni e quant'altro ha un peso se arriviamo noi che siamo il portavoce di 20.000 società sportive ha tutto un altro peso e a quel punto si può creare del valore nel quale le società sportive che appunto si sono nostri clienti ma in realtà sono nostri partner perché creiamo è come se stessimo creando l'ecosistema sportivo dilettantistico dove noi siamo i portavoci lo nominavo anche l'altra volta abbiamo un benchmark negli Stati Uniti che si chiama TeamSnap TeamSnap fa il SAS sulle società sportive anche se è un po' diverso negli Stati Uniti ma il SAS sulle società sportive gli conta un 25% del fatturato annuale perché tutto il resto lo fa attraverso la vendita di ulteriori prodotti e servizi ma soprattutto sponsorizzazioni il mondo delle sponsorizzazioni è sì 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 hai portato esattamente la discussione sul punto dopo perché appunto diciamo questo è un qualcosa su cui comunque rifletterei perché prima o poi ci vanno a sbattere tutti su questo su questo tema perché appunto si parla di 100.000 potenziali clienti anche se li hai tutti sul piano massimo sono 65 milioni di AR che insomma schifo non fanno però averlo come tetto massimo può essere un po' un po' limitante però se invece il discorso diventa no questo è solo un modo per mettere il primo piede nella porta e poi aggiungere tutta una serie di servizi aggiuntivi dove pensiamo di fare molti più soldi chiaramente il discorso cambia certo ma è proprio per valorizzare il mondo sportivo e detentistico in generale cioè la società sportiva attraverso la partnership con noi deve in realtà poter fare soldi come? attraverso delle sponsorizzazioni che troviamo noi per tutto il mondo elettantistico perché? perché aggregando società sportive creiamo valore in quella sponsorizzazione no? altrimenti non ce ne sarebbe e sappiamo tutti che le società sportive almeno 5-6 anni che fanno una fatica enorme a trovare degli sponsor perché prima ovviamente c'erano dei giri particolari quindi era più facile oggi invece è molto più difficile e noi gli diamo gli strumenti per essere appetibili ma poi possiamo essere i primi interlocutori di questi sponsor che decidono di andare su di noi ma oltre a questo ci sono anche altri esempi nel quale loro appunto possono creare più valore con l'affitto delle strutture con la digitalizzazione dei con il mandare in streaming le loro partite no? sì quello che sto pensando è anche diciamo l'aspetto B2C quando parlavo di SEO chiedevo insomma come la sfruttate quello a cui stavo un po' hinting era capire se utilizzate anche pagine programmatiche perché la cosa che mi sta tenendo in mente è voi fondamentalmente potreste diventare le pagine gialle delle associazioni sportive sì ci avete pensato a creare la pagina profilo di ogni società che ha l'account vostro e farla indicizzare su Google sì ce l'abbiamo la possibilità della società sportiva di poter si crea una sorta di Google My Business no? ok però sul nostro sito ce l'abbiamo non l'abbiamo non la stiamo valorizzando tanto ok cioè nel senso ma è più per demerito nostro che che loro sì perché ti spiego cioè se tu lo fai cioè se tu lo fai in questo modo hai una long tail infinita di pagine sono almeno queste almeno 10.000 puoi anche farlo di società sportive che non sono ancora tue cioè ti prendi tutte le 100.000 società sportive italiane e te le carichi su un csv e ti crei le pagine in automatico tanto avete sviluppatori che sicuramente sanno come farlo e quindi poi c'è sia l'eBay Effect o chi è che l'ha fatto Glove Effect dove loro hanno creato le pagine dei ristoranti che non avevano sulla piattaforma la gente ordinava gli andavano là con la bustina gli dicevano senti dammi questo ordine che te lo che lo devo portare a un cliente e quindi voi magari avete l'opzione per l'utente finale che vuole andare a vedere fammi vedere un po' la di Stefano società sportiva cosa cosa fa e trova il vostro sito in cui c'è c'è una lista di specifiche su cos'è e io dice magari c'è un bottone che dice entra in contatto oppure richiede informazioni quello che può diventare anche un canale di acquisizione e poi insomma vi permette di testare tante cose diverse magari lo sponsor che cerca informazioni su diverse società direttantistiche può cominciare a guardarci potete fare le pagine di categorie quindi avete la pagina società sportive di biathlon a Catanzaro che mi sembra insomma una cosa molto comune e lì avete anche la lista di tutte le società sportive di biathlon a Catanzaro che sarà piena di società e un piccolo paragrafo di descrizione quelle sono anche tantissime ricerche long tail che vi andate a coprire in questo modo hai ragione non è vero noi come funzionalità esiste non la stiamo valorizzando però è vero effettivamente è così ma concettualmente è questo il mondo dilettantistico in Italia vale un miliardo ok ma quel miliardo lì è poco rispetto a cosa può valere in realtà perché perché la gestione è fatta ancora su carta e penna o ad Excel i profili degli atleti non ci sono dati né degli atleti né dei genitori la visibilità sulle partite profili degli atleti che è quello che abbiamo detto fino adesso per 10 il profilo dell'atleta che va a finire su google indicizzato quando io cerco Tommaso giocatore di punta di calcio ma Gole nasce con questa visione cioè nasce anche da una mia esperienza personale io magari lo accennavo anche l'altra volta io sono stato un calciatore e ho avuto ho fatto tutta l'altra fila delle giovani del rimini calcio quando era in serie B dai giovanissimi fino alla primavera io ho giocato contro sono nel 90 quindi ho giocato contro Balotelli Santon Immobile con tutta questa gente ma non sapevo manco chi fossero lì perché non c'era visibilità poi sono andato a finire negli Stati Uniti sono andato in un college americano a giocare in una squadra alla squadra di calcio del college e lì avevamo dove? si chiama Lean University ed è a Boca Raton vicino a Miami ok figata ovviamente ho incontrato un mondo che mi ha affascinato totalmente avevamo highlights delle partite persone allo stadio per chi non lo sapesse le partite di football college in America fanno una media a spettatori tipo doppia rispetto a quella della serie A di calcio praticamente quindi 90.000 persone fisse che si guardano le partite di college è allucinante guarda se vuoi posso fare una digressione di un minuto ero lì vicino a Miami in Florida ci sono tre università di football del college molto importanti che sono University of Miami Florida Seminole e Florida Gators d'accordo allora c'era una partita del Miami contro i Gators avevo preso dei biglietti sono andato giù ma non sapevo bene cosa aspettarmi siamo arrivati con i miei amici americani siamo arrivati lì 5 ore prima della partita con tutto barbecue Florida tutto il parcheggio barbecue ma sai chi c'erano c'erano quelli del Miami quelli del Gators e quelli del Seminole che non c'entravano manco nulla sono venuti comunque a vedere la partita e a stare con gli altri cioè è una maniera veramente di portare valore visibilità al mondo dello sport dilettantistico soprattutto al mondo dello sport giovanile che è bellissimo e Gole nasce con quella visione oggi è un gestionale per le società sportive ma è come se la vera cosa che stiamo facendo è essere una rete che li mette in contatto gli dà le giuste risorse gli dà i giusti input gli trovi i giusti partner per poi arrivare anche alla community per fare in modo che anche loro possono essere valorizzati è ovviamente un long run però la visione del progetto è questa non è un gestionale per le società sportive diciamo la differenza territoriale Italia e Stati Uniti è che chiaramente il motivo per cui questo avviene negli Stati Uniti è che molte città non hanno la squadra di riferimento in tantissimi sport perché poi non c'è serie A serie B serie C ma questa è la Lega se hai soldi per comprarti la franchigia e la vuoi mettere nella tua città la metti lì altrimenti ti attacchi e quindi io che sono a Seattle e non ho più i Super Sonics Rest in Peace mi attacco alle partite di college perché sono quelle che mi fanno sentire diciamo più interessato però sì io per esempio conosco varie persone che sono in fissa con il Trastevere che è una succursale è un quartiere di Roma ma a Roma è classico Roma non c'è la terza squadra no? c'è il Trastevere il Trastevere è la terza squadra sì sì in teoria è quello lì quindi è molto interessante e so anche che anzi facciamo le cose più scolastiche prima parlavi di paid marketing cosa utilizzate cosa sta funzionando per voi al momento di lì paid marketing ovviamente lo facciamo sulle piattaforme principali quindi Meta Google e magari ogni tanto sponsorizziamo qualche canale verticale no? specifico e in periodi diversi hanno performato piattaforme diverse per esempio adesso Google sta performando molto meglio di Meta Search Google sì quindi le pagine dove non riuscire a essere primi con la SEO fate bid di Google o YouTube tipo YouTube è una piattaforma che è ancora molto poco exploited cioè sfruttata diventare voi tipo distributori di highlights delle partite o simili a livello tecnico è complicato o? no no non è complicato ci vuole un po' di tempo perché ci vuole un po' di tempo perché prima devi far capire il valore dell'inserire la telecamera sui campi alla società sportiva e sta iniziando abbiamo iniziato anni fa a darlo come come servizio in più solo che anni fa nessuno era interessato oggi invece c'hai i genitori che magari sono anche un po' più giovani rispetto a qualche anno fa che magari gli piace connettersi online per vedere la partita del figlio quando va in trasferta magari o quando non può essere presente quindi iniziano a percepire il valore e a quel punto però rimane una cosa chiusa cioè è un link solamente per esatto per i testarelli di società sportiva quando inizi a avere un bel bacino a quel punto deve portare valore anche alla società sportiva però gli si potrà dire ti va se ovviamente con tutti i consensi privacy e quant'altro però ti va di pubblicarlo pubblicarlo perché se lo pubblichi puoi incrementare la visibilità del tuo brand puoi incrementare le leggi fate AI fate il montaggio fatto dall'AI e ci mettete gli sponsor in mezzo capito sì sì se tu prendi 10.000 visualizzazioni su questo video highlights poi c'è la marca che ti dà X perché il CPM che hanno d'accordo con voi è Y esatto noi riusciamo ad aggregare magari facciamo vengono giocare ogni partita fa 500 visualizzazioni benissimo ma abbiamo 20.000 partite ed ecco che le visualizzazioni cominciano a contare poi all'inizio gli introiti saranno pochi per le società sportive però più crei valori in questo sistema e più potrà aumentare certo certo e poi anche avere gli highlights delle partite pronti da condividere con i genitori o quel che è insomma c'è valore abbastanza diretto secondo me anche perché poi diventa un fattore differenziante cioè ce le hai queste cose oppure no perché magari io che sono il genitore un po' più fighetto vado solamente dalla società che queste cose me le offre noi a Bologna avevamo ci sono 3-4 centri sportivi che sono nettamente più grandi degli altri e ne avevamo preso uno che appunto aveva pagamenti digitali aveva il sito web un po' più carino aveva cioè aveva si vedeva che iniziava avere una cura diversa sulla gestione della società sportiva e sulla visibilità rispetto agli altri e sono arrivati anche gli altri appunto perché hanno visto che che stava succedendo questo no e ne abbiamo abbiamo parlato brevemente prima ma mi sa non abbiamo approfondito vi arrivano mai i referral dagli utenti finali dai genitori dagli utenti che vanno nelle associazioni stanno iniziando stanno iniziando adesso anche perché noi abbiamo rilasciato le nostre applicazioni a ottobre del 2023 ad oggi abbiamo circa 60.000 download delle nostre app solamente di tesserati delle società sportive ai nostri clienti però è successo che magari una famiglia avesse il figlio che gioca ad uno sport in una società sportiva e la figlia o un altro figlio che gioca in un'altra società sportiva in una di quelle gestiva attraverso golet le documentazioni i pagamenti le notifiche e quant'altro nell'altra no e sono andati loro effettivamente a dire guarda che esiste anche sì hai un bottone tipo suggeriscici un'altra un'altra lo metterei perché sembra sembra interessante siamo quasi finendo il tempo diciamo immagino che uno dei vostri progetti a parte questo del B2C che è potenzialmente enorme è anche quello dell'espansione all'estero quindi come l'avete approcciata so che avete fatto dei test in in Spagna giusto come sta andando quali sono i problemi esatto un paio di anni fa avevamo un nostro socio che era interessato a vedere la scalabilità anche all'estero quindi abbiamo fatto un test in Spagna e con ovviamente un budget molto limitato però effettivamente avevamo creato qualche decina di nuovi lead e la performance sull'aspetto del a quel tempo non ragionavamo con lo scoring avevamo un altro che era un boarding retention ed era simile a quello italiano poi cosa succedeva che ovviamente ci devi mettere un po' di tempo per magari la traduzione fatta in maniera migliore ci sono alcune logiche che cambiano da paese a paese e quando non è proprio perfetto per quel paese certo magari l'equivalente della nostra riforma dello sport lì che richiede un certo tipo di hai bisogno di gente dedicata che respiri proprio quell'ambiente della mattina o della sera però nelle fasi iniziali performava uguale per cui quello è stato è stato è stato gratificante poi ovviamente noi abbiamo dovuto priorizzare le attività in base a quello che volevamo sviluppare quindi ci siamo concentrati abbiamo chiuso e ci siamo concentrati solo con l'Italia nel 2024 rimarremmo esclusivamente in Italia poi l'obiettivo è quello di avere le metriche giuste per fare il salto con un nuovo round di fundraising e a quel punto almeno il 20% di quel round verrà dedicato per un'espansione internazionale per fare in modo di creare le metriche giuste quindi consolidare ancora di più il mercato italiano perché noi dobbiamo investire ancora di più nel nostro brand e farci conoscere meglio poi quel 20% viene destinato per un per un mercato estero nel quale riesce portarti a casa il market il product market fit anche lì e a quel punto poi evidentemente di quante persone avete bisogno secondo voi per entrare per dire in Spagna cioè perché aspettare l'arrivo del serie 6 per fare questo salto perché se si l'investimento che fai in un paese estero hai bisogno di molto più tempo per tornare per ritornare di quell'investimento cioè banalmente tu devi tu devi avere comunque un paio di persone per ogni reparto che siano attive anche lì quindi un paio di persone nel marketing un paio di sales e un paio di programmatori almeno poi ti devi far conoscere programmatori sì perché è perché probabilmente ci sono delle funzionalità che servono solamente nel mercato spagnolo o che che magari parlano la lingua che magari so che può sembrare cioè può sembrare so che ti viene da viene da pensare che attraverso l'Italia puoi far tutto però effettivamente in un ambiente come il nostro nel quale le persone il segretario spagnolo è comunque un pensionato che va lì per la sua passione senza veramente un introito per cui dobbiamo sfondare quella barriera di fiducia la prima cosa che da fare è garantirci la loro fiducia no? e a quel punto e devi fare le cose proprio per lui cioè con la sua maniera di comunicare la sua maniera di e quindi dai programmatori forse è il meno sono d'accordo però però fatto sta che se tu se il tuo obiettivo è quello di fatturare mezzo milione in più di sicuro non è entrando in un mercato di più in arco di non so sei mesi ci sono attività che sono che puoi valorizzare molto più rapidamente sì sì quello assolutamente diciamo che per me il discorso del cioè voleva essere capisco il ragionamento era più un challenge dell'idea perché poi quello che caratterizza il tante aziende che riescono a scalare in fretta è anche la capacità di entrare rapidamente in un mercato nuovo poi c'è anche un discorso da fare su cash flow burn rate e altro che chiaramente non è non è questo il luogo la vedo più come quasi una sorta di difesa rispetto al fatto che più passa il tempo più comunque è probabile che soluzioni simili alla vostra vengano create in altri paesi e poi a quel punto diventa magari anche più difficile riuscire a entrare rapidamente quindi se c'è un modo veloce lì di entrare in un mercato secondo me ha senso sperimentare però avete fatto le vostre valutazioni dipende tanto da quanto va personalizzato quindi quello sicuramente un country manager qualcuno di sales sicuramente serve ecco per esempio ci sono delle cose che potete cominciare a fare magari già adesso lato SEO per piazzarvi meglio in futuro quindi cominciare a creare la sub directory tradurre gli articoli sono cose relativamente low effort che possono cominciare a piazzarvi un po' meglio per quando per quando partirete giusto sì sì è vero avere una struttura avere una struttura più più solida nel momento dell'entrata è vero ma poi guarda che tra l'altro per noi io non vedo l'ora di andare all'estero proprio non vedo l'ora abbiamo una serie di advisor che hanno già avuto loro esperienza di portare le loro aziende all'estero e tutti quanti dicono guarda che si sottovaluta tantissimo l'apport per cui è importante che tu validi il fatto che puoi entrare il fatto che puoi creare più o meno le stesse metriche in modo tale che poi l'investimento non è alla cieca ma è già su qualcosa ma se non hai una cassa che rispetto a quello che ipotizzi inizialmente sia almeno un per due un per tre che puoi rendere potresti farti male cioè potresti andare a rovinare quello che stai facendo nel tuo mercato il cash è il king ed è devo dire in realtà è un discorso che io tendo a non tirare fuori con la maggior parte delle aziende perché molto spesso si va pensano di poter entrare nel mercato estero prima di aver vinto nel mercato italiano nel mercato locale nel vostro caso secondo me diventa interessante perché voi praticamente siete già leader del mercato in Italia avete un funnel dei growth loop che funzionano però sì chiaramente è anche tanta attenzione che viene portata via per esempio ai founder che non è da sottovalutare al di là del costo ma anche dire ok adesso il 20% della mia attenzione dedicata a questa cosa non è così scontato quindi sì sì lo capisco che non è facile comunque in generale è stato anche un mio percorso di crescita importante il fatto che all'inizio sei tentato di dire di sì a tutto ti partono mille opportunità mi ricordo ai tempi della blockchain tutti quanti volevano fare poi ai tempi della blockchain sembra tanti anni fa un paio di anni fa e sta tornando quindi esatto però tutti volevano fare queste cose in blockchain quindi i soci delle società sportive in blockchain il cashback in blockchain gli NFT dei giocatori gli NFT del giocatore il poter diciamo investire sul talento dell'atleta e quant'altro e c'erano diciamo blockchain che ovviamente davano anche un sacco di soldi per poter creare dei progetti lì e noi ci abbiamo tentato solo che defocalizzano un sacco e ogni volta che provavamo e quindi splittavamo le nostre risorse su due progetti core vedevamo che non riuscivamo a valorizzare nessuno delle due per cui adesso andiamo uno si consolida va avanti da solo investimento per accelerare ci sono due tipi di investimento uno è per accelerarlo e uno per scommetterci per costruirlo e se tu continui a fare quelli per costruire 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 è rischiosissimo quindi ne trovi uno che funziona investi ancora di più per fare in modo che sia una macchina che vada avanti da sola e poi eventualmente con una parte investi su qualcosa che puoi anche perdere blockchain però massimo la perdi no no ma quello è forse sì è l'errore più è l'errore più comune quindi assolutamente avete fatto bene a non a non defocalizzarvi troppo lì anche perché poi insomma si è visto quello che quello che sarebbe successo le botte che sono arrivate esatto esatto gli schianti che ci sono stati è stata è stata una conversazione super interessante state facendo secondo me un ottimo lavoro quindi insomma veramente grazie ancora per la disponibilità spero che sia stata una conversazione interessante quantomeno anche anche per te e per chi vuole entrare in contatto insomma il tuo immagino linkedin sia forse la piattaforma principale quindi ti possono trovare gole.it con due è il sito dove possono andare se magari c'è qualche presidente che ci ha ascoltato fino adesso del biathlon a Catanzaro andate andate sul sito e che lo sa magari poi faremo anche una puntata di aggiornamento per sentire come sta andando volentieri ti ringrazio tanto il tuo tempo sicuramente mi ha fatto molto piacere e niente grazie mille sono sicuro che tanti potenziali founder hanno trovato un po' di ispirazione in quello che state facendo quindi sarà molto utile di un po' di ispirazione di un po' di ispirazione